benvenuti pellegrini e non come sempre sono qui con norberto i gamer e giocatore dei dungeon rascals e con eric traduttore scrittore e game designer come state ormai come consuetudine a introdurci il discorso di stasera è norberto quindi vai go stasera vorremmo parlare di un argomento molto molto particolare mi sta anche abbastanza a cuore si tratta dell'adattamento avevo anche preparato un certo titolo per questo argomento e sarebbe stato adattamento necessità o violenza però partiamo dall'inizio come giusto che sia e cos'è l'adattamento e perché c'è bisogno dell'adattamento e questo direi che può dircelo eric è semplici è semplicissimo se non fosse che non sono pleata dunque giustissimo l'adattamento è quel processo che tu dovresti intraprendere per prendere un'opera di narrativa in generale che può essere audiovisiva può essere un libro un fumetto quello che vuoi quindi si parla di racconto quindi prendi quest'opera la traduci da una lingua per l'altra perché chiaramente tu se sei uno scrittore un inventore di storia un narratore in generale ti inventi la tua storia è la tua lingua madre con pochissime eccezioni la scrivi nella lingua che ti è più cara con la quale sei cresciuto poi però se hai successo internazionalmente magari la tua opera diventa interessante per qualcun altro e viene trasportata di là dai confini quindi qualcuno si deve fare fare carico di prendere la tua opera nella tua lingua e tradurla nell'altra traduzione e adattamento sono fondamentalmente parte dello stesso processo nella lingua stampata spesso e volentieri invece nell'audiovisivo sono due lavori differenti traduzione e adattamento sono due persone che se ne occupano ma a volte no a volte sempre la stessa quindi sarebbe questo il processo io prendo una storia personaggi vicende tutto quanto e faccio in modo di trasferirla il più possibile fedelmente nella lingua d'arrivo da una all'altra questo è l'adattamento bene e ora la domanda che effettivamente mi incuriosisce di più perché c'è bisogno dell'adattamento perché un esempio so che in cina i film non vengono adattati vengono portati al cinema con il sottotitolo perché magari nel senso mi piace di più così non credo allora come mai c'è un piccolo fraintendimento l'adattamento c'è comunque nel senso che quando tu vai a fare il sottotitolo proprio perché è una lingua differente tu devi letteralmente adattare quello che viene detto nella lingua in cui viene scritto sembra una nota semplice in realtà come dicevo è una cosa complicata perché perché tu hai un certo io l'ho fatto questo lavoro mai tante volte in pratica funziona così tu hai un tempo molto limitato che sono massimo un paio di secondi ok per scrivere una frase questa frase deve essere veloce da leggere e deve deve rendere il più possibile fedelmente quello che viene detto in meno di due secondi dagli attori ci sono lingue che lo rendono più facile ci sono lingue che lo rendono più difficile oltretutto quando vai a fare i sottotitoli soprattutto di interviste ti rendi conto di quanto quando parliamo cominciamo discorsi non li finiamo mai ma tu quando li vai a scrivere devi renderli comunque compiuti quindi devi comunque adattare quello che viene detto a una forma che non è quella originaria quindi il parlato diventa scritto in una lingua diversa cercando ovviamente di mantenere il significato quindi l'adattamento c'è sempre attenzione non ti sbaglia fra traduzione adattamento e doppiaggio sono tre aspetti della stessa cosa ma sono tre aspetti differenti due dei quali sono comunque presenti traduzione adattamento anche nel sottotitolo ci sono oltretutto il sottotitolo ha anche più sfortuna perché ha bisogno di non solo tempistiche molto più limitati ma oltretutto anche uno spazio limitato perché ovviamente non è che può essere lunghissimo devi anche stringere per farlo entrare assolutamente e a volte devi sei costretto a far partire il sottotitolo qualche secondo prima per dare tempo poi alla frase successiva che sarà lunghissima di essere leggibile e magari sforare nella frase dopo ci sono dei trucchi che si possono attuare in questo senso però ecco è comunque un lavoro di traduzione all'adattamento lo stesso differente il discorso voci discorso voci è un'altra cosa che anche ve la sarebbe interessante da affrontare ok allora visto che sono stati creati in ballo i sottotitoli io proverei a muovere la prima critica go capita spesso fin troppo spesso che magari io sono un fan di guardare l'opera in lingua originale sono proprio fan di questa cosa e spesso e volentieri mettono la lingua originale ma comunque il sottotitolo o in italiano o in inglese quello che è disponibile e noto che all'orecchio mi arriva una certa frase con un certo significato che io poi interpreto e leggo totalmente altra cosa da cosa vuol dire tu vuoi farmi dire che l'adattatore è uno stronzo ma questo io non te lo dirò il sto provando no il concetto è molto semplice come ti dicevo il la teoria è facile l'atto pratico è un'altra storia al di là del fatto che te lo dirò per primo c'è gente fa questo lavoro che non dovrebbe fare questo lavoro c'è gente fa questo lavoro che non è preparata non è qualificata ma soprattutto non lo sa fa e non è detto che se te sai adattare e tradurre bene faccio un esempio un bugiardino medico quindi le istruzioni di una medicina alla sai anche tradurre e adattare bene un'opera di finzione e viceversa il problema non è neanche tanto l'abilità quanto l'approccio al materiale e lì è un problema proprio di etica del lavoro in questo caso non secondo me da come la vedo io non tanto di chi poi fisicamente diciamo effettivamente le fa queste traduzioni che scrive che picchia sui tastini quanto di chi sceglie quella persona perché è chiaro che come ti dicevo io ho parlato con una persona una ragazza oramai ma è una mamma grandissima professionista lei è una traduttrice professionista macinava traduzioni tutto l'anno tutti i giorni completamente continuamente e ma lei me lo disse chiaramente cioè io preferisco tradurre roba tecnica roba di ingegneria roba di medicina piuttosto che roba di romanzi perché ingegneria medicina una volta che te sai come ci si come si traduce come si rapporta uno a uno quella frase quella formula in una lingua nell'altra ti hai fatto basta cambiare come dire i principi attivi quello che vuoi la roba tecnica i termini specifici che tutti le puoi andare a cercare un dizionario tecnico che è una grandissima rottura di coglioni parliamone però una volta che sai come quella frase si si intende dall'altra parte basta che tu usi quella formula dice io dovessi tradurre un romanzo mi sparerei perché so già che dove fa un lavoro molto diverso e per lei molto più faticoso io sono il contrario io preferisco un un'opera dove c'è una narrazione mi piace entrarci dentro e mi piace tirarla fuori sono un po il titolo il mio film porno che ormai è diventato un tormentone fra di noi amici da casa vero e qui blue k 99 ci ha devastato tutti però questo è quanto cioè non tutti sono adatti a fare tutti i lavori ma io ti ho detto la maggior parte dei casi dalla orpa chi lascia la sceglie quella persona lì perché è chiaro che se non ne sai nulla e ti mettono a tradurre per la roba lì puoi prendere solenne cantonate a una cosa divertente il tacchino freddo te armi te l'ho già detta questa testa questa allora vecchio film first blood da noi è rambo arrivano arrivano in questo locale il colonnello che non mi ricordo come si chiama che parla con john rambo e ordinano da bere e rambo prendere tipo uno scotch e il colonnello a me del tacchino per favore e gli portano due bicchieri te quel tacchino non lo vedrai mai arrivare perché quello che lui ha ordinato è un wild turkey che è un tipo di whisky credo da aver capito non essendo i bevitori e lì è un problema perché a quel punto te non gli puoi neanche dare colpa a questo traduttore che pora stella lui non gli è venuto in mente che wild turkey non era un piatto del giorno ma era uno stramaledetto drink e lui non l'ha visto il film perché lui è arrivato il testo e a quel punto lì lui ha tradotto quello che poteva non gli è venuto in mente che era una marca è uno strafalcione ma lo trovo un peccato veniale capito se voglio dire ci sono invece altri casi in cui il peccato non è veniale ad esempio a me piacque molto perché la conobbi diciamo come amica di penna diciamo l'operato della traduttrice di uno dei primi libri della saga dell'horus eresi orus rising non lo dicesti mi ricordo che in italiano si chiama l'ascesa di orus che è anche un'edizione assolutamente accettabile anzi questa ragazza gli era stata data l'incarico di tradurre questo libro solo che lei si ritrovò in mezzo a un libro in inglese una marea di latinorum perché il latino del 40.000 è una schifezza non è latino gotico alto albe attenzione esattamente perché l'alto gotico appunto è latinorum non è latino e lei si ritrovò che quindi si fermò e disse ma io cosa devo tirare fuori devo tradurre tutto non devo tradurre tutto trovo dei termini che si ripetono sono dei titoli è un modo particolare di dire un incarico e apparve sulla community di warhammer 40.000 italiana sul forum gv tilea e fece un post in cui chiedeva ragazzi io mi ritrovo il testo in inglese e questi termini che non so cosa sono mi date per favore una mano a capire cosa va tradotto e cosa va lasciato perché è importante per la trama che abbia non una traduzione ma al massimo un adattamento per magari renderlo un pochino più pertinente al latino come succede normalmente in italia esattamente ma vedi questo lo puoi fare a perché questa ragazza evidentemente ha un'etica del lavoro ineccepibile e b perché il tempo perché c'è anche questo il fattore tempo al di là del fatto che magari il materiale che ti viene dato non è esattamente il top perché come questo discorso già ce lo siamo un po accennato ora poi magari in orbe ci fa qualche esempio magari a te ti danno da tradurre i sottotitoli già tradotti cioè io non traduco direttamente dall'inglese traduco dal polacco che ha tradotto dall'inglese quindi ci sono già due passaggi è come il telefono senza fili no che si faceva quando sei piccino quando sei piccino te non lo so cosa facevate ma noi si faceva il telefono senza fili ma noi si faceva il telefono senza fili era raccapricciante quello che partiva e che non c'imbrava nulla o quello che arrivava in fondo alla capire quindi c'è anche questo dipende a se hai il tempo e b anche che il materiale ti viene fornito dal datore di lavoro perché il datore di lavoro appunto invece di darti l'originale ti dà già una traduzione di un'altra lingua ancora e la possibilità che tu prenda delle ti dica delle cazzate colossali è molto molto facile quello che è successo ad esempio in italia con la saga di dark souls che a noi ci sono arrivati i sottotitoli in inglese da ritradurre e quindi abbiamo dei madornali errori di adattamento perché a parte che qui si entra anche in cioè qui entra in gambatese anche il problema che molto spesso lo stesso autore non vuole rivelare tutto e quindi fa il misterioso solo che un adattatore quando si trova il mistero davanti non è che possa avere la telepatia nei confronti dello scrittore esattamente nel senso nel caso di dark souls è tutto totalmente criptico e talmente sparpagliato fra enormi quantità di oggetti armature cose che io posso capire un traduttore o adattatore che in questo caso traduttore che si mette lì e fra intende roba o sottovaluta qualcosa che secondo l'autore invece una cosa è un doppio senso intrigante lui non lo prende lì non le posso da più di tanto allora direi che è il momento visto che è stato toccato il momento videogioco io entro a gamba tesa fai del tuo peggio allora a parte che giocavo al telefono senza fili ah vedi vedi ero un ottimo giocatore giovane ma non così giovane vedi vedi comunque final fantasy 7 remake la mia disgrazia praticamente appariranno anche in sovraimpressione in grafica due scene la prima è ovviamente si parla di scene finali proprio è l'ultima scena del gioco quindi se non volete cioè spoiler è un remake però vabbè insomma la frase è iconica è la frase di eris a fine gioco quindi chi non vuole vedere o ascoltare si frappi gli occhi toglie le cuffie insomma esatto allora questa prima questa scena qui è con il parlato in giapponese mentre il sottotitolo è in inglese ok ora non voglio fare il professore io di giapponese ne so veramente poco però un po lo so e so per certo che sora vuol dire cielo e kirai da kirai verbo odiare quindi odio il cielo mi viene proprio traduzione letterale io odio il cielo in inglese leggo i miss it the still sky ti manca il cielo d'acciaio che sarebbe la placca che è caduta trama varia qui entra in gioco un'altra cosa che invece ecco questa invece è una cosa che a me mette proprio la rabbia dentro la pellagra una delle due in entrambi i casi non niente di piacevole che è la l'adattamento pensando a quello che il pubblico potrebbe o dovrebbe aspettarsi di sapere o di capire che vuol dire io mi aspetto che pubblico sia stupido e quindi io gli semplifico il concetto è più possibile mi parlo di pele pere banane e non di odiare il cielo che magari poverino non lo capisce alla prima invece di come dire cercare di fare quello sforzino anche di cercare di capire che proprio perché un'opera giapponese magari usa delle figure storiche o di o di immagina di immaginare diverse ma gli parliamo di pere banane così lui non si non si perde temo di doverti fermare perché la frase che dice erit è un richiamo a quello che era lo spin off che viene inserito nell'universo di 1987 remake cioè è importante come frase ora per non stare a sannocciare tutta la trama lei odia il cielo perché le fa paura e lo odia per questo e ci sta e quindi vedere il sottotitolo in inglese totalmente diverso mi ha un po spiazzato ma è comunque semplificato perché odiare il cielo evidentemente a chi l'ha tradotto o a chi ha scelto quel quella quell'adattamento gli sembrava una cosa che non si capiva cosa volesse dire ma qui entra in ballo la seconda scena che è la stessa identica però con l'audio in inglese e il sottotitolo in italiano in inglese dice i miss it the steel sky 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 mi manca il cielo e in italiano leggo il cielo mi fa paura quindi fra queste tre partendo dal presupposto che io sento di dover dar ragione al giapponese perché l'hanno fatto loro il gioco quindi immagino che per loro quello dovesse dire erit in quel momento ma in inglese in italiano a chi devo dar retta nella mia esperienza da quello che vedo dei videogiochi per esempio dal giapponese il sottotitolo italiano di solito traduce il giapponese mentre sotto mentre l'inglese fa un adattamento tutto suo giocavo tempo fa nino kuni 2 revenant kingdom molto bellino più di gameplay che di trama purtroppo il primo era molto più bello di trama molto meno interessante di gameplay ma va bene comunque un gioco piacevole ben fatto e anche lì io il giapponese non lo so e quindi ho messo l'audio in inglese perché quello non mi dà problemi però e l'hanno lasciato i sottotitoli perché tante volte lo giocavamo a volume basso e quindi ci leggevamo quello che mi ha detto e io mi rendo conto subito quando c'è una a volte come dici te è macroscopica e lì mi rendo conto che mentre la versione il sottotitolo italiano è tradotto dall'originale giapponese quello inglese è un adattamento molto più libero come ti dicevo semplificato per venire incontro a stilemi e immaginario che sono conosciuti al pubblico americano è un'operazione di adattamento molto più invasiva e anche secondo me assolutamente da evitare cioè se dovessi dare indicazioni a un adattatore non fare quello tu non devi appiattire il significato devi renderlo comprensibile che sono cose diverse quindi fra le due dovresti dare retta al giapponese ma al sottotitolo italiano che è molto più simile infatti al giapponese nel sottotitolo italiano non si parla di odio ma si parla di paura probabilmente c'è un'accezione di quel kodai kiraida kiraida quel kiraida che può essere tradotto come timore paura reverenza o che ne so io e o comunque avversione e avversione potrebbe diventare paura dico io che non so giapponese ma no invece mi sembra confermare la cosa perché mi sembra molto più aderente dimmi dimmi perché comunque conoscendo il personaggio di eris poi nel senso fantasy 7 è un brand che va avanti da quasi fin troppo tempo e conosco il personaggio chiunque abbia giocato i giochi un affezionato ai videogiochi capisce che la versione giapponese ovviamente è più fedele ma quella italiana ci puoi vedere il personaggio dire una cosa del genere il significato non è del tutto storpiato no no certo certo è adattato esattamente è magari un esempio adattamento fatto nel modo corretto sensato certo in inglese è violenza in inglese è violenza stupido lo spettatore perché il minimo ti può informare lo scopri e fai ma che cosa io ci rimasi stupito quando vedi il film di kabobibop che lo vedi sia in giapponese sottitolato prima di trovarlo in italiano e poi lo vedi in inglese in inglese è pieno di parolacce a caso stronzo merda vaffanculo e te fai ma a parte che è strano che i giapponesi siano volgari ma manco ce le hanno ste parole capito e poi dico ma non ti rendi conto evidentemente chi ha adattato ha pensato che essendo un'opera fondamente fondamentalmente hardboiled gangster movie sai sai non posso dire più cyberpunk perché sennò non ve li viene le bolle però non lo faremo evidentemente pensavano bene usiamo un linguaggio più adulto perché è quello che tutti si aspettano da un film se fosse un film tutti si aspetterebbero quel tipo di linguaggio se fosse un film americano ovviamente se fosse fast and furious sennò che poi anche fast and furious può dire massimo tre volte merda una volta fuck perché altrimenti poi li chiudono il pg 13 diventa r e ne fanno la metà dei soldi anche lì poi vero anche questa se ne può ragionare ragazzi comunque lasciamo perdere su come la fonte del 90 per cento dei problemi di tutte le nostre discussioni sono i soldi è quello che muove il mondo sai com'è quindi per tirare le fila sì esistono diversi modi di fare adattamento e ci sono anche politiche diversi attraverso le epoche albe per esempio è un puoi dire fan sembra di trattarti male è un fan di guerre stellari e sa benissimo che in guerre stellari nei vecchi film e quelli con i quali sono cresciuto io prima di lui ci sono degli strafarcioni colossali ma proprio delle stronzate tipo la guerra dei quoti che cacchio è una guerra di quoti perché la con wars già all'epoca con wars evidentemente chi l'ha tradotto clone mi vuol dire ma probabilmente non sapere cosa voleva dire e allora l'ha chiamato quoto gli ha dato questo nome boh ma chissà da dove essere tirato fuori il più bello rimane ma la stella pilota lo stella pilota che leggi star pilot è la stella pilota e certo invece di fare di appunto pilota spaziale ma ce n'è tante ma i nomi dei droidi sono un capolavoro che dovrebbero secondo chi decise all'epoca dovevano meglio rappresentare il labiale r2d2 diventa r2d2 vabbè anche quella del labiale anche in questo sì no mi sbaglio mi sbaglio com'era invece no era diverso r2d2 è quello giusto sì ora non mi viene in mente c1p8 sì mi sa che c1p8 a o e o diventa c1p8 perché di certo sono numeri che me frega numeri a lettere posso mettere quelli che voglio e da una parte è vero e dall'altra perché ma perché ma cosa te ne frega adattamento superfluo dart veder diventa dart fanner perché non vuol dire nulla aspetta su questo sono un aneddoto sono un aneddoto molto particolare che viene fuori da film pitch perfect che vuol dire padre in svedese sì tipo in olandese vuol dire padre e io ero lì no ma tanto non l'aveva preso lo stesso nessuno in italia ma chi se ne avrebbe detto ya è chiaramente padre ma chi è ci sono rimasto lì no ma davvero no via cioè che poi da quello che ho capito è proprio tipo la casualità delle casualità nel senso che tipo lucas ha aperto un dizionario delle parole random ne ha presa una così primo lucas che quello volesse dire padre me lo può raccontare quanto vuole non ci pensava nemmeno lui no no anche perché completamente cioè alla fine del primo film in pratica l'imperatore per loro era un vecchio rattuso idiota messo dentro una stanza per fare il capoccia ma non aveva nessun potere il vero gerarca era Darth Vader Darth Vader ovviamente e Darth Vader aveva ucciso i genitori di Luke dove veniva fuori non il ah no in realtà sono Tupac e roba del genere quindi ti dico ci sono state epoche in cui il labiale aveva la precedenza epoche in cui l'adattamento non deve offendere nessuno e quindi ci trovi appunto una delle traduzioni anche di recente che è stata utilizzata dove oh mio Dio diventa non ci credo ah in Thor 2 in Thor 2 è un esempio molto recente ma guarda che questo tipo di adattamento qua è vecchio proprio perché è una cosa non si parla di religione per carità di Dio oh Dio ti trovi a un certo no non lo fare ti trovi a un certo punto che diventa una prassi come ti dicevo delle medicine no te sai che quella formula si produce in quel modo e quando te alla scuola per interpreti ti insegno interpreti in questo caso no ma insomma ti insegnano no oh my god non devi dire oh mio Dio perché qualcuno si offende scrivi non ci credo e poi ti trovi appunto con film recentissimo Thor 1 da Tali Portman che guarda quello che pensava fosse un bellissimo imbecille che diventa Dio del Tuono e dice oh mio Dio perché è un Dio del Tuono giochino e in italiano dice non ci credo ma era divertente era divertente e aveva senso quindi tu mi vai a rompere i coglioni al significato semplicemente per dar retta a un vecchio stilema che non si sa più a chi interessi ma ti ripeto ci sono scuole che hanno fatto questo e quello secondo me oggigiorno anche per il fatto che ci lavora un sacco di gente che questo lavoro non l'ha studiato lo fa semplicemente per passione sai il momento buono invece per approcciarsi all'opera con la filosofia giusta che è appunto cercare di mantenere il più possibile la fedeltà totale che non è possibile al 100% anche solo per il fatto che te una cosa la dici tavolo e dici table già così table vuol dire anche tavola vuol dire anche tavolotta ma insomma che cosa voglio dire ci sono tanti significati che io con i quali posso giocare in inglese semplicemente dandogli un'accezione ambigua in italiano vuol dire semplicemente tavolo già se dici tavola in italiano magari stai parlando di un disegno e di un tavolo capito quindi già così con una semplice una semplice lettera che ti cambia gli hai già dato dei significati differenti o hai perso significati per strada quindi la fedeltà 100% non ce la puoi avere ma ti ci puoi avvicinare tanto perché lo scopo non è rendere uno a uno quello che dice il giapponese perché non lo puoi fare o ti impari il giapponese a quel punto hai il 100% ma non puoi pretendere che la gente lo faccia o altrimenti devi perdere qualcosa per strada ma a patto che il senso sia lo stesso che la cura sia la stessa che se c'è un gioco di parole io mi faccio il culo per cercare di riprodurlo al meglio possibile io tutte le volte lo dio sempre almeno sa perché se ne è parlato vero ah beh la vecchiaia è quella sì poi ripetire oh sei insupportabile sì sono arrivato dopo io sì no ma te infatti ti sei salvato ora vedrai fra un anno mi spari direttamente mi vedi per strada e mi fai fuori e mi fai sotto con la macchina di armi fra l'altro perché è enorme ma non ho neanche la patente quindi proprio mi riuscirà benissimo ok ok e no in pratica uno degli adattamenti secondo me geniali della storia del cinema geniali che io non so come si è portato in mente e so da dare le baci in bocca è l'adattamento di frankenstein junior werewolf darewolf che è un gioco stupido che ha un senso in inglese perché dice eh sento loro sono lì che su un carro del cazzo la notte che stanno andando verso il castello di frankenstein sentono un ululato si gira il dottor frankenstein werewolf cioè homo lupo eh e cosa lo guarda e fa no their wolf their castle no lì c'è il lupo e lì c'è il castello were there ok quindi dove lì in italiano la genialata lupo ulula no lupo lula castello ululi che è chiaramente un'aberrazione dal punto di vista linguistico ma è una botta di genio perché recupera un gioco di parole impossibile perché era impossibile homo lupo lì castello era impossibile ma recupera il gioco di parole la battuta il nonsense che nel film è fondamentale lì in quella scena non c'è ma nel film sì e lo recupera in una maniera ineccepibile io da bambino ci ridevo con un matto perché perché era una situazione buffa assolutamente strana e questo Igor con l'occhi torti lo polo lì castello lula meraviglioso ovviamente c'è gente che dice che questa osavia dovrebbe essere bruciata al rugo perché non rispecchia l'originale e qui possiamo tirar fuori il non lago nel pagliaio ma l'elefante nella stanza come si suol dire vai con i cannoni Albe esattamente artiglieria cioè quell'aberrazione dal punto di vista dell'adattamento del doppiaggio di quello che è perché è un buco nero di inutilità che s'abbassa e trascina tutto che è in pratica qualsiasi doppiaggio degli ultimi anni di Gualtiero Cannarsi ah sì proprio una fitta al cuore scusate fa male non so se avete visto tutto ciò che è stato tradotto da Cannarsi quindi tutti i film di Miyazaki quindi Evangelion quindi Abenovashi e credo anche altra roba perché d'altronde non so di averla vista tutta allora inizialmente quando aveva meno diciamo potere o influenza ora qui sembra di farlo diventare un super cattivo non è questo ovviamente l'intenzione dicevo all'inizio quando non era molto famoso nel senso quando aveva appena iniziato creava dei doppiaggi più o meno normali il primo doppiaggio di Evangelion sostanzialmente è un doppiaggio normale verso da metà della serie in poi inizia a avere dei momenti in cui si percepisce un italiano qualche costruzione un po' barocca sì qualcosa di un po' strano diciamo quando però gli è stata data l'occasione di rifare il doppiaggio di Evangelion i nuovi film è lì è cascato l'asino credo che ricordiamo tutti la famigerata scena dell'innaffiatoio dei comeri che è che ora apparirà in schermo peraltro quindi sentiamola perché questa è incredibile io non posso fare altro che starmene qui ad annaffiare però quanto a te quanto a quel che non puoi fare che tu per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci ma non ti costringerà nessuno pensa da te stesso decidi da te stesso che cosa adesso tu stesso debba fare beh che tu non abbia rammarichi ora questa non ha alcun senso di esistere ma in tutti i sensi ma se vogliamo aggiungerne altre per coloro che hanno avuto la sfortuna perché non c'è altro modo di definirla di guardarsi il film si alza il vento che doveva essere l'ultimo film di Miyazaki un diciamo un testamento anche se detta così sembra brutta però nel senso era la sua ultima opera quindi pensata per essere comunque una summa di quello che era il suo lavoro ci si ritrova dopo nemmeno aver iniziato tipo 5 10 minuti di firma a sentirsi dire secondo fratello anche qui si torna a bomba ci sono cose giapponesi tradizioni giapponesi che per noi non sono comprensibili in un modo o nell'altro ma perché non le puoi tradurre non le puoi tradurre ma anche i suffissi dei nomi kun no tipo shijitun chan ecco queste sono cose che noi utilizziamo in maniera diversa ok alberto piccolino albertino albertino loro dicono alberto kun no alberto chan suppongo dimmi te ok però ci sono delle situazioni in cui questa cosa viene utilizzata che noi non abbiamo nella nostra cultura perché lì è un problema culturale non è un problema linguistico è un problema culturale se te certe cose non le chiami in una certa maniera perché per te il concetto di gerarchia famiglia anzianità sono differenti rispetto a quelle della società giapponese te chiaramente certe cose le chiamerai con nome diverso e con un'accezione differente proprio per questo quando te vai a tradurre questa osa la devi adattare in modo che sia italiano chiaramente devi fare il tuo meglio per cercare anche di far capire allo spettatore occidentale che lui sta guardando un'opera che è stata fatta pensata e scritta da qualcuno che vive in una cultura differente che è un arricchimento perché te capisci anche come mai magari c'è tanta riverenza nei confronti che ne so del maestro degli anziani cioè ci sono queste cose però a livello linguistico devi rendermi questa cosa il più possibile comprensibile perché stai facendo un lavoro di traduzione altrimenti non lo fai me lo lasci in giapponese con sottotitolo in giapponese io non c'è piscuna solenne fava e a quel punto lì io quell'opera non ne posso fruire è inutile venire a fare un discorso come ho sentito fare ma è lo spettatore che deve fare uno sforzo di venirmi incontro io non devo incontro a nessuno ho seguito le polemiche enormi dei discorsi che sono stati fatti non faccio nomi ma raccapriccianti cioè io non posso fare un'aberrazione che non è niente non è italiano non è giapponese non è neanche un mix delle due è una cascata di parole che rispettano la struttura giapponese ma con i significati italiani sperando che venga fuori un discorso che ha senso e che qualcuno mi debba anche stare dietro ma io non sto dietro a niente mi perdo l'opera non mi godo il dialogo non mi torna nulla fondamentalmente penso che che firme di merda che è la cosa peggiore che puoi fare a quell'opera lì soprattutto che Miyazaki è un gene è un maestro assoluto andrebbe fatto vedere nelle scuole è maledizione invece facendo così non ci si avisce una solenne minchia oltretutto facendo violenza non solo al giapponese perché mi dire che un giapponese è contento se sa che una delle sue opere che è una è una bandiera del giappone nel mondo è trattato in quella maniera ma nemmeno un italiano che vede una osa o si e dice io non so di osa parlano primo fratello secondo fratello è comprensibile ma non è italiano ma chi è che chiama il fratello più grande primo fratello ma nemmeno se tu fossi sotto un regime militare ecco quindi capisci bene che c'è proprio un problema filosofico di fondo io Gualtiero l'ho conosciuto ai tempi in cui scrivevo sul forum di Plus Plus Network poi Plus Chan ci sono saluto i decani dell'epoca Shuji Maximilian che erano delle figure e trovai questo tizio di Shito si faceva chiamare Shito apostolo appunto professionista che dalla sua ha una forza di come posso dirti non di persuasione ma lui è talmente sicuro della sua filosofia che è un monolite lui non lo sposti gente infatti lo segue in maniera diciamo quasi cultista perché perché è uno che ha una sicurezza terrificante lui c'ha le sue certezze e te devi adattarti a loro e non ascolto ovviamente le obiezioni degli altri perché da per scontato che lui è un professionista gli altri sono dei cialtroni quando gli ho fatto notare certe cose da professionista non mi ha mai risposto semplicemente lui dice ah perché la morte in inglese è maschile io gli faccio non mi avere chi l'ha detto da quando la morte se non altro anzi se proprio deve essere neutra poi ci sono opere che ne parlano al femminile ne parlano al maschile questo è vero ma non è che si può dire è al maschile non è vero quando glielo ho fatto notare non mi ha mai risposto cioè non è che ha poi continuato il discorso lui l'ha lasciato cadere per cui lui ha la sua filosofia che io capisco tu quando dici l'adattamento a una violenza non dici una cosa sbagliata nel senso che chiaramente se io devo mettere le mani su una lingua straniera un'opera straniera pensata da uno straniero io devo andare a smontarla e automaticamente gli faccio un torto ma io gli faccio un torto in modo e in maniera che chi quell'opera originale non se la può godere possa goderne quindi le faccio un torto ma per fargli un piacere all'opera perché qui non si parla anche lì non si parla di persone non è che io martratto guardiero perché guardiero io trovo la sua filosofia di approccio all'adattamento aberrante perché secondo me non fa un favore né al giapponese né all'italiano però guardiero lavora nell'internazionale quindi tecnicamente ha ragione lui io sono uno stronzo che ha fatto la sua carriera nell'internazionale ma non ai suoi livelli quindi chiaramente ha ragione lui detto questo da come la vedo io se dovessi fare io per lavoro io non farei così e lo trovo folle io purtroppo ho un terribile ricordo di quando al cinema diedero la principessa mononoke temo di sapere a cosa stiamo andando a parare non posso dirlo perché non voglio risultare offensivo in nessuna maniera per nessuno certo quella divinità quella con le orna ho capito vale dire esattamente e dato che le mani sono le sue signor Cannarzi perché ha fatto bestemmiare ripetutamente dei figlioli cioè in sala delle mamme hanno portato via i figlioli e lui ti guarda e ti dice ma è un adattamento della lingua straniera in giapponese non è una bestemmia sai te che ci vede la malizia in realtà c'è stata una risposta all'argomento ha proprio detto che dal suo punto di vista non è mai una bestemmia perché quando lui scriveva la D è minuscola certo il discorso era più o meno quello se non ricordo male oltre al fatto che poi lui diceva che tipo non lo diceva nessuno quando poi invece è stato provato più di una volta in tanti video che viene detto tipo 12 volte una cosa del genere il fatto è proprio quello perché viene ripetuto tante volte poi a me fastidio non dà perché motivi miei però dico una madre si è alzata con il figliolo ha detto no io questo non te lo faccio vedere perché viene ripetuto tante volte questo secondo me che pure io sono uno stronzo sono un signor nessuno potevi trovare il modo di diciamo aggiustare questa cosa ma infatti è quello che ti dico quando si parla di adattamento perché la traduzione è corretta non è scorretta e non è un'aberrazione come primo fratello secondo fratello è una traduzione letterale e corretta però facendo così distoglie l'attenzione del pubblico perché il pubblico pensa un'altra cosa e allora devi girarci intorno e stai facendo un torto all'opera ma stai facendo un favore all'opera allo stesso tempo sono dell'idea che forse proprio questo caso cioè prendendo quello che hai detto proprio all'inizio il fatto di dover adattare l'opera per il pubblico per cui è diretta perché se te traduci dal giapponese all'italiano tradurrai con un certo metodo in italiano non puoi far dire quelle cose a dei personaggi perché in italiano suonerà esattamente come una bestia assolutamente sì quello è il fallimento dell'adattamento assolutamente sì come potete aspettarvi la conversazione non è finita qui a questo punto però dopo più di 40 minuti abbiamo preferito tagliarla e portarla in un secondo video quindi adesso non posso fare altro che salutarvi dirvi di mettere mi piace di iscrivervi al canale di selezionare sulla campanella di mettere le notifiche in modo da riceverle per ogni video che possiamo mettere online sul nostro canale e detto questo ciao al nostro prossimo video e al proseguo di questo grazie a tutti Grazie a tutti.